Con la ripresa delle lezioni in presenza partono le iscrizioni al concorso video a premi Noi ragazzi al tempo del Covid, che tra spunti di riflessioni, estro e creatività intende dare voce all'esperienza dei giovani messi a dura prova dall'emergenza sanitaria. Indetto dallo sportello famiglie della Fondazione Matteo e Claudina De Stefano, il contest è rivolto agli alunni residenti nel territorio cilentano frequentanti la scuola secondaria di secondo grado, i quali potranno partecipare in gruppi di almeno tre persone inviando la loro opera originale e inedita di massimo sette minuti entro il 30 aprile 2021. Lo sportello famiglie con sede ad Agropoli, dichiara Barbara Riccio De Stefano, presidente della Fondazione che dal 2012 opera gratuitamente offrendo un servizio di consulenza sociale a favore delle persone in difficoltà del territorio cilentano, conta sulla collaborazione dell'Istituto Ottoniolo dell'Università Cattolica e di professionisti altamente qualificati. Oggetto dei racconti audiovisivi sarà il cambiamento delle relazioni nel vivere quotidiano in confronto alla famiglia, alla scuola e agli amici. Questa iniziativa, afferma Patrizia Del Verme, consigliere d'amministrazione della Fondazione, si propone di promuovere l'attività dello sportello per avvicinare i giovani che hanno particolarmente sofferto in questo difficile periodo di pandemia. L'idea progettuale ha trovato riscontro e collaborazione innanzitutto nel laboratorio di storytelling audiovisivo del Dipartimento di Scienze della Comunicazione dell'Università degli Studi di Salerno, diretto dal professor Filippo Fimiani, che sarà presidente della giuria chiamata a valutare gli elaborati. La commissione di esperti che aggiudicherà i tre premi è inoltre composta da Luca Rossini, regista e giornalista RAI, nonché vicepresidente del team, da Gianni Petrizzo, regista, editore e direttore di rete di Cilento Channel, da Angela Riccio, vicepresidente Fondazione De Stefano, esperto di comunicazione e immagine già direttore Fiera Milano, e da Patrizia Del Verme, psicologa, psicoterapeuta, responsabile del servizio di psicologia clinica e della salute ASL Salerno. La selezione delle opere vincitrici, te racconto, spiega Fimiani, non tanto delle competenze tecniche, quanto delle capacità di trovare soluzioni inventive per costruire in squadra, ognuno facendo la sua parte, un racconto in immagini dell'ultimo anno vissuto nei segni del Covid. Daremo insomma conto della partecipazione e della passione, dell'intelligenza e dell'immaginazione messe in opera nel realizzare un prodotto audiovisivo originale, tradotto in documentario, opera di finzione, di animazione, docufilm, che non aspiri ad essere bello quanto vero. Una specie di autoritratto individuale e collettivo insieme della vita di tutti i giorni, dello studio e del tempo libero, delle amicizie e degli amori, in cui potersi riconoscere come persone e come membro di una comunità e di famiglia. In particolare, il miglior video selezionato sarà iscritto a un concorso nazionale di cortometraggi. Inoltre, il negozio di telefonia 4M Communication di Agropoli offrirà ai primi tre classificati un buono spendibile in prodotti tecnologici. Il regolamento completo potrà essere scaricato sul sito web della Fondazione www.fondazionedestefano.it slash concorso trattino scuole slash. Tutti i video dovranno essere inviati con WeTransfer a sportello-fondazionedestefano.it